Ha doppiato vari film di animazione come Il viaggio con Pippo, A Bug's Life, Tardan e molti altri, ha inoltre doppiato diversi attori, fra i quali Toby Jones, Chris Ben, Timothy Spall e Wayne Knight, e La voce di Klaus, Il pesce rosso in American Dad, e quella di Michael Kiklis in Ordinary Family, nonché di Zach Galifianakis nella trilogia di Una notte da leoni. Ha inoltre commentato, insieme a Francesca Draghetti, un'edizione di Takeshi's Castle andata in onda su Cartoon Network e Boeing. Ha avuto un ruolo d'attore nel telefilm Raccontami, andato in onda su Rai 1, nel quale interpretava Romeo Fortini.